Tristezza bandita a Teramo almeno per un giorno. Domenica 26 febbraio si farà festa in piazza per tutta la giornata. Un carnevale dedicato soprattutto ai bambini, che potranno sbizzarrirsi tra giochi, animazioni e maschere. Le zone interessate saranno Piazza Marti e Corso San Giorgio. Sarà un parco gonfiabile già pronto dalla mattina. Poi diciamo che la festa è vera e propria, inizia il pomeriggio, dalle 15 in poi. Avremo, insomma, trucca bimbi, avremo diverse attrazioni per i bambini. Avremo un gruppo musicale che fa musica dei cartoni animati. Questo fino alle 6. Poi, per non, come dire... Interferire con la messa. Con la messa si trasferirà, ci sarà un momento con un DJ che si svolgerà lungo Corso San Giorgio. Ci saranno tante sorprese per i bambini che parteciperanno al carnevale di Teramo. Tra queste la possibilità di cavalcare un poli e quella di scoprire un carro pieno di magie. La vostra organizzazione che cosa offrirà ai bambini di Teramo? Allora, noi siamo un centro ippico e offriremo la possibilità di fare dei giri coi poni. Anche quest'anno, come tutti gli altri anni, abbiamo portato i poni e anche un carro, un carretto, diciamo, in una biga dove i bambini si divertono a salirci. Ci sarà un solo carro ma sarà bellissimo. Sì, noi contiamo veramente di realizzare una bella opera. Siamo già al lavoro, grazie anche alla collaborazione dell'Officina di Salini Gianni a Villavomano. Sarà un carro a tema e il suo nome sarà il Campo dei Miracoli di Collodiana Memoria. Che miracoli farete? Un po' perché di miracoli avremmo proprio bisogno in questo periodo. un po' per esorcizzare tutto quanto di negativo ci è capitato. Vogliamo cercare di tornare alla normalità e tornare così anche tutti un po' bambini, cercando di riscoprire le meraviglie del Carnevale, perché almeno a Carnevale tutto vale, tutto si può fare.